Mi sto arrabbiando, ok? I due posti sono uno per me e uno per signor Maialino, quindi qui non abbiamo ancora capito bene come funzionano le cose, non pensi? Hai già deciso tu che i posti sono pronotati? Scusa, al signor Maialino dove lo metti? Me lo spieghi? Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph e questo è Giugio che mi ha Roblox E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno che per oggi sono Entifier, Domenico, Leonardo, Given Paladin, Stargame 91 e Martina Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Quest'oggi siamo tornati su Trilence e guardate un po' ragazzi, abbiamo un bel po' di soldini da parte, 2600 silver e 5400 gold Obiettivo di oggi, dirigibile! Esattamente, come abbiamo detto nel secondo episodio, questo oggi il dirigibile non ce lo toglie nessuno Siamo in compagnia dei consolini Momi e Crochi che sono riusciti ad entrare nel server E guardano parcheggiato i loro bellissimi dirigibili proprio qui a casa tua Noi siamo gli unici a non averli, oggi si parte col botto Ok, sono proprio gasatissimo perché è da un sacco di giorni che noi entriamo su Trilence e non vedevo l'ora Voglio fare un po' di costruzioni Ok, ok, perfetto Ti voglio far vedere anche la mia casetta poi, l'ho completato un pochettino Ho notato che i video hanno chiesto di far vedere anche la mia costruzione, quindi dopo la faremo vedere Non so a chi potrebbe interessare, ma va bene A tutti Perché sono più brava di te Cos'hai messo? Che cos'è questo? Ho messo il quarto harvester Io forse non l'ho ancora raggiunto quello dei cocomeri Forse non l'ho ancora raggiunto Dovrebbe dare un bel po' di soldi, infatti io ho 8000 gold Pensavo di mettere qui uno e fare un appartamento grande Ok, ok, sì ci sto Che va proprio sopra l'altra parte, mi sembra carino questo tipo di cose Vediamo se me lo posso permettere già Allora, Bullings, medium room, 350 silver Vai, vai, mettila Non lo metti Non c'è la follia Ho fatto una follia Ho fatto una follia Cos'hai comprato? Ho comprato il castello Ma no, dai di già Sì, 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 sì A me, ragazzi, io amo il Medioevo Quando leggo qualcosa A tutti lo amano il Medioevo Che c'entra col Medioevo impazzisco Oh mio Dio Aspetta, andiamo di sopra Ma sono le torri, hai visto? Sono le torri di Vedetta Ma sono fantastiche Vedi tutta la città da qui sopra È bellissimo Ora è buio, non si vede bene Ma questo di giorno sarà uno spettacolo Mi piace troppo Sarà bellissimo Bellissimo Sarà bellissimo Questo è davvero epico Però mi è venuto un dubbio Io posso spostare delle costruzioni? Sì, le puoi togliere Come? Però ho notato una cosa Sì Ok, te lo dico Praticamente se tu adesso Vabbè, l'hai già capito come si toglie Sì Però devi fare attenzione Perché se tu adesso Da questo percorso Ok Inizia a costruire tantissimo E poi lo vuoi modificare Se togli l'inizio del percorso Ti si toglie tutto Ok, ok Ok, mi sembra giusto Perché ho pensato Perché ho pensato Alle torri Panorama Ok, mettiamolo davanti Alla casa Dietro non aveva più senso A questo punto Senso, senso, senso Ok Poverina che è rutturre Ok, quando l'ho tolto Eh, lo so, lo so Da questa parte Ci mettiamo il gazebo Ok, vai Dai, io ancora Il gazebo non ho visto La mia casa in confronto La tua è ancora piccola Perché non ho farmato Ancora troppi silver Diciamo che sono ancora Nelle palle iniziere Lo so, volevo subito Far vedere un po' di cose Ai consolini Mi sembrava giusto Il gazebo è molto bello Carino Questo se lo arredi bene Magari come se fosse Una zona, diciamo Per farti una cenetta Oppure per berti qualcosa Doposcena Esatto Secondo me diventa carinissimo Questo sarà carinissimo Mentre poi Alla sinistra o alla destra Dobbiamo ancora decidere Faremo la stanza media Quella di media grandezza Quindi vedremo Un pochettino Direi che per adesso Va benissimo Non li vuoi arredare? No Oppure lo vuoi lasciare Lo volevo lasciare per dopo Ho un'idea Senti questa qua Se ti piace Ok, ok, ok Praticamente Dal gazebo Andiamo alla sinistra Il dirigibile Ci mettiamo Che ci sta benissimo Bravissima Lo stai mettendo adesso? Bravissima Vai, vai Dovremmo averceli Credo Spero Uno o due Di distanza Uno 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 No, secondo me Due diventa troppo distante Siamo troppo nefogati Sì, sì, sì Allora Questo costava Mille silver Poi c'è questo Che costava 2000 silver E 10.000 gold Sai che sono anche vicino All'elicottero Sarebbe epico E direi E poi c'è Il dirigibile Blu Che costa 10.000 gold Quindi noi ci compriamo questo Così puoi venire sempre con me Perché l'altro è da un posto E se ci salgo io Va troppo lento Non cammina più Invece questo Ci possono stare mista Altre due persone Oltre chi guida Bravissima Quindi Spam pam Oh mio Dio Che bello Che bello Non vedo L'hanno già riempito Sì Scusate Cioè Io non lo vedo Mi sto arrabbiando Ok I due posti sono Uno per me E uno per signor maialino Quindi qui Non abbiamo ancora capito bene Come funzionano le cose Non pensi? Mi hai deciso tu che i posti sono pronotati Scusa Signor maialino dove lo metti? Me lo spieghi? Dove lo metti altrimenti? Guarda che lui deve stare comodo Lui è abituato a vivere in un castello Molto più grande Che quello che tu hai appena fatto Ok Perché un signore ha proprio il castello Tipo ce l'è presente È quello del conte Dracula Sì Uguale È così grande Allora facciamo una cosa Quindi ha bisogno di un posto Tu vai a creare il castello Per il signor maialino E io me ne vado in giro Come un mio crocchi No ha detto che questo castello Che si può creare è troppo piccolo Lui è abituato a altri tipi di conflitti Ok va bene Non l'offendere Non l'offendere Allora dai sediti nel posto passeggero Ok Sei caduta vero? No Sto tornando Stavano saltando tutti Mi hanno confuso ok? Mi spieghi come hai fatto Non mi criticare Non provare a criticarmi Non c'era neanche lo spazio per cadere No c'è lo spazio Io ne aggiungo altro Lo spazio non c'era C'è lo spazio è come se c'è Lo vedi questo qua E questo qua Lo vedi C'è un diruppo Salta Ok vieni nel posto a sedere Ok ci siamo Dove andiamo di bello? Dove andiamo di bello? Dove mi porti? Non lo so Anche perché è buio E io devo ancora imparare a guidarlo Cioè tu ti stai fidando un po' troppo Allora Aiuto Speriamo di non fare un incidente Praticamente sto imparando i tasti Con W Wast Wast Ti muovi in avanti e indietro Sì se l'estero Classico Con la E e con la Q Invece puoi salire e scendere Di quota Ok ok Perfetto Se premiamo la Q Vedi che scendiamo Come lo parcheggi? Io ho qualche dubbio Sulle tue abilità di parcheggiatore Facciamo che ho un po' di paura Come fai? Non lo so Allora mettiti dritto e scendi di quota Magari si aggancia in qualche modo Ci stavo sperando anche io Ma non credo che succederà Te lo dico Avvicinati Oddio Facciamo incidente vero? Sì Oddio Sì 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 Ci scendiamo Ci scendiamo Vai Dai Allora io sono stato precisissimo Ok Parcheggiato? Cioè sono Ammetti Che sono un pilota bravissimo No ma semplicemente È appoggiato Vedi che c'è l'elica appoggiata qua E l'ho appoggiato io E quindi rimane Rimane lì Ok va benissimo Sono stato bravissimo Proviamo ad andare a prendere le Blackberry Ci hanno spiegato Che dovrebbero Stiamo sbagliando strada Sto sbagliando strada Sì me ne sono accorta Non mi seguire Che dovrebbero essere Sopra le collinette Quindi andando con il dirigibile Dovremmo riuscire a prenderci Un po' di queste Speriamo Blackberry Fantomatiche di cui parliamo Ma che non troviamo Sono troppo curiosa Sì sono curiosa Perché praticamente Sono riuscita a trovare Qualsiasi tipo di frutto In questo gioco E non ho mai trovato quelle Quindi mi ci sono fissate Le voglio assolutamente trovare Invece lì ci Secondo me c'è qualcuno Che li sta farmando Perché non ne stiamo vedendo Sì non ne abbiamo trovati Quindi diciamo che Per ora facciamo questo Poi magari facciamo un altro giro E li troveremo Tra un pochino Quando il dirigibile Ha grossissimi problemi A salire di quota Lo sai Ok Perfetto Proprio soffre tantissimo Secondo me E signor maialino Che è troppo pesante Stavo per dire esattamente quello Non so come fate a pensarlo Prima di me Non lo so neanch'io Facciamo paura ogni tanto Aiuto dai Alzati piano piano Vedi piano piano ce la fa Però proprio soffre tantissimo Allora sopra le collinette In che senso? C'è questa zona Credo In queste zone Sì Infatti finiamo di salire Ancora minimamente orientare In questa mappa Che la vedo sempre enorme Non capisco mai Dove devo andare Ma tipo Quell'albero lì Lì sotto Che cos'è? Lo vedi che è da solo? Secondo me quelli sono lici Anche secondo me Sono verdi per forza Scendi veloce Scendi Velocissimi Discesa rapida E davanti a una caverna Non dirmi che si trovano pure qua A portata di mano Senza neanche dover usare un dirigibile Non lo so però Se ci sono Sono un sacco di soldi Scendo e inizio a vedere Sì Ok Sì Che poi si chiamano Durian Durian Abbiamo detto Duncan tutto il tempo Ok Durian Durian Allora il dirigibile Ok l'ho parcheggiato recentemente Prendili tu dai Prendili Esatto grazie Sì 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 Guardate Ditemi che non sono dei lici Quattro per albero Lo voglio dire Non ce ne sono mai di più Perché alla fine Sono 200 silver Sì penso che basti pure Allora Che hai fatto? Ti giuro che ho tirato il licio Ti ho visto E ti ho visto lì sopra Esatto Finalmente giorno Finalmente si vede qualcosa Abbiamo aspettato una vita Non arrivava più la giornata Non arrivava più Andiamo a cercare un po' di Durian Sì giusto? Non mi ricordo come è il nome Durian Durian Sì 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 Quindi tornandoci e vedendo il cespuglio vuoto Avevo intuito che si trovassero in qualche particolare condizione climatica Infatti avevo ragione Avevo ragione Sono felicissima Quindi aspettiamo il tramonto Mentre prendiamo Durian Perfetto Allora Durian dove li troviamo? Io non ho idea neanche di quelli È tutto molto raro Quindi è difficile riuscire a trovare le cose Lo so Lo so Infatti forse converebbe direttamente fare arance o cose del genere Ma è meno entusiasmante Assolutamente sì Quindi andiamo a cercare un po' di Durian Secondo me Allora occhi aperti Ok Sì guardiamo benissimo Allora l'albero è molto diverso Spieghiamo Agli altri Quindi dovremmo notarlo Spieghiamo una cosa Il cespuglio l'altra volta abbiamo trovato per terra Ma di solito si trovano in queste collinette Esatto Si trovano in alto Quindi dobbiamo tenere gli occhi super aperti E vedere se tra le colline Compare appunto un cespuglio particolare Perché è molto diverso dagli altri Se compare dobbiamo parcheggiare E prenderci i quattro bellissimi Durian Io sto continuando a guardare in giro Però per ora non vedo nulla Neanche in lontananza C'è un albero lì sopra Guarda lì è la tua destra Lo vedi che sopra una collina Deve essere per forza uno di Durian Vai Ma dove? Non lo vedi? No Sì è quello Guarda ce l'hai di fronte Nella collina un po' più a sinistra Un po' più a sinistra Quella più in basso Dai ma scherzi lì Sì come fai a non vederlo Si vede anche nel tuo Questo? Sì Ok Ok E dicevo un altro bug che non vedi le cose Invece eri semplicemente tu che non vedevi nulla È di Durian quello così in alto Per forza Sì 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 Lo è Sei stata bravissima a vederlo Lo so Ho anche notato Ormai ho il radar per i soldi E io ho finalmente visto dove sono le cose delle bacche nere Ho notato anche quelli Sì Gli altri cespuglietti E vedi che poi sono molto simili a quell'altro cespuglio che è lì in mezzo Sì Quindi secondo me ho fatto bene E secondo me sarà anche quello pieno di bacche nere Allora Mi sa che i Durian li hanno già presi Quindi l'albero è vuoto Per vedere no Non credo No 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 Li vedo io Scusa Non sei un bravo raccoglitore di Durian Non te li meriti Eh lo so Sei stata bravissima Ti devo quattro Durian Devo ammetterlo Sei stata davvero davvero brava Non so se è merito di signor maialino Te l'ho detto Il radar per i soldi È solo quello Riesco a vedere subito Le cose che non dovresti dirle Le cose che Eh vabbè Nel gioco Dai Ma sono soldi veri questi Scusa Io voglio fare solo molti soldi qui dentro Perché così Posso avere una casa bellissima Voglio avere una casa Ma anche nella vita reale Se fai tanti soldi Per avere una casa gigante No ma io vorrei proprio la casa sull'albero Anche nella vita reale Però Nel momento mi accontento Sai che c'è la trasmissione su Skype Lo so Che le costruiscono Possiamo chiamare lui E ce la facciamo costruire Va bene Sì Gli diciamo Abbiamo cento duri a andare a darti Ce la costruisci una casa sull'albero Esatto Prendiamo cento lici E glieli diamo Ci chiama la polizia È un'altra cosa sull'albero E vabbè Un mattone Un mattone Un mattone che verrà tantissimi soldi Allora prendilo Ok E adesso lo vendo Allora salve È sempre simpatico lui ci dà un sacco di soldi Li voglio bene ormai Esatto esatto Ok guarda Conta bene quanti sono Mo ci dirà che sono tantissimi Sono 12 Per 600 silver Bellissimo Mamma mia Peccato per l'ultimo albero vuoto Ma va benissimo anche così 600 silver sono tantissimi Sì Quindi va benissimo Adesso andiamo a prendere quelle bacche Anche se sono inutili Giusto per Ne prendiamo una guarda Te lo dico Perché non ho voglia di prenderne molte Ne prendiamo una Per dire delle prese È giusto per dimostrare che io avevo ragione Che avevo visto delle bacche nere in quel cespuglio Allora non ci andiamo Cosa me ne frega di dimostrare che hai ragione Sei una persona terribile e non ci provare Cosa me ne frega a me Tanto Finalmente è tramonto Stiamo su due cespugli sopra Guarda Sopra la collinetta Abbiamo parcheggiato il nostro bellissimo Dirigibile Però non è ancora perso nulla Già Io non vorrei dire Però sto rimanendo molto delusa Non dovevi dimostrare di aver avuto ragione Come funziona Allora Allora Il tramonto è appena iniziato Quindi magari ci vuole un pochettino Prima che sponano E ma dura anche poco il tramonto Eh ma alla fine Anche i concomeri Non è che appena piove Sponano subito Quindi Eh non lo so Apparite vi prego Apparite Non lo so Apparite che abbiamo fatto un viaggio lunghissimo Io non ne vedo Io non ne vedo E le colpe iniziano a ricadere Tutte su signor maialino Non ci provare Guarda Eccoli Eccoli Lo vedi Lo vedi Avevo ragione Avevo ragione Che sponano solo in un certo momento Sono felicissima Eccoli Che bellino che Te l'ho detto Sono troppo carini Sono troppo carini Finalmente ne abbiamo preso uno Che poi non sponano tutti assieme Visto che ne ha perso solo uno Quindi probabilmente devi proprio aspettarli Guarda un altro qua Prendilo Prendilo È una schifezza sta cosa Te lo dico Fatti gli affari tuoi Fatti gli affari tuoi Adesso li prendi tutti E la cosa E poi li vendi Ne abbiamo preso pochi Sono davvero pochi Pensavo ne sponassero di più Vabbè pazienza Pazienza Andiamo a vedere almeno quanto valgono Sette Otto Hai ballonzonato tutto E vabbè sto scesa Eh signor maielino Pesa proprio tanto Bisogna dirlo Pesa davvero tantissimo Aiuto Ti aspetto nel negozio Ti aspetto nel negozio State facendo ballonzonare Il mio povero dirigibile Da una parte all'altra Credo che ci pagherà una miseria Però ripeto Per l'harvester Almeno sono utili Quindi non è stato tempo perso Salve Ci dica quanti sono Grazie Vediamo Vediamo Sono molto curiosa 9 8 Per 12 silver L'1 Te l'ho detto 96 silver Te l'ho detto Te l'ho detto Tu non mi credi mai Io te l'ho detto che Sarebbero valsi Qualcosina Per forza Perché spawnano solo Poi in un tempo molto limitato Perché il tramonto È limitato 50 E ne abbiamo fatto 8 Ok Quindi comunque 12 l'1 Questa è un'altra cosa Che dovremmo prendere costantemente Abbiamo fatto un'altra scoperta Utilissima Te l'avevo detto E direi di fermarci così Siamo a 1341 silver 8300 gold Ci serve Mi sa 2000 silver E 10.000 gold Per l'elicottero Quindi nel prossimo episodio Andremo a fare quello Magari arrediamo ancora un po' la casa Perché Sì perché al momento è abbastanza Volevo far vedere la mia La facciamo vedere Mentre finiamo No 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 Non mi dispiace È colpa sua Ok È colpa sua Nessuno la vuole vedere Tanto per ora è bruttina Dai ti do La possibilità di farla più carina Entro il prossimo episodio Ok Allora mi sbizzarrisco Perfetto La sa anche lei Che è ancora un po' brutta La sua casa No è la casa base Non è brutta È molto carina Invece È molto carina Beh ragazzi Il video è c'è così Se vi è riuscito Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao